Buongiorno a tutti, siamo con Fabio Baffigi di XItalia, il dealer italiano del cantiere danese XIOTS. Dal 16 al 20 settembre qui al Marina Calata Ovest di Chiavari sarà possibile vedere una parte della gamma XIOTS. Fabio, ci vuoi raccontare che cosa succede? Sì, ciao Alberto, buongiorno a tutti. Abbiamo deciso di organizzare un evento dove faremo vedere le nostre imbarcazioni, ma soprattutto per la prima volta un evento in cui sarà possibile provare le nostre imbarcazioni. Fabio, intanto spiegaci quali barche saranno presenti a questo evento. Sì, abbiamo deciso di portare tre imbarcazioni della gamma Pure X e nella fattispecie l'X43, l'X46 e l'X49 e poi abbiamo deciso di portare un'imbarcazione della serie XP, ovvero Performance, l'XP44. Mi sembra molto interessante il fatto che tu abbia scelto la possibilità di far provare le barche, non è così comune che questo accada? Sì, soprattutto nel mondo XIOTS non è una cosa così comune. È sempre stato piuttosto complicato, ma abbiamo pensato questa volta di puntare veramente su quelle che sono le caratteristiche distintive delle nostre imbarcazioni. Siamo infatti convinti che navigare su un XIOTS sia qualcosa di differente e quindi abbiamo deciso di dare la possibilità ai nostri clienti, le persone interessate o potenziali clienti futuri, di sperimentare, di avere un'esperienza diversa e capire veramente che cosa significa navigare su un XIOTS. Fabio, hai parlato di due gambe, la X Pure Line e la X Performance. Ci racconti le differenze? Certamente. La XP è la linea performance di XIOTS, è quella più votata alle regate e alle competizioni. Sono barche dalle prue più strette e dalla struttura dello scarico delle tensioni, delle forze della barca realizzate in carbonio, cosa che invece ad esempio sulla linea Pure X, che è la linea intermedia fra la cruising e la performance, vede ritornare sulle nostre barche il tipico ragno in acciaio galvanizzato. La linea Pure X è una linea dai volumi un po' più larghi, un po' più grandi, quindi con maggiori capacità nei serbatoi dell'acqua e del gasolio. È comunque una linea dove la performance la fa sempre da padrone, ma è una linea veramente a metà tra la crociera e la regata. Richiama un po' quella che era la linea tipica, le linee tipiche, le performance tipiche degli Xioz di un tempo. Senti, perché è così importante questo ragno in acciaio galvanizzato nella X Pure Line? Beh, è una caratteristica distintiva della Xioz da quando è nata. Noi siamo soliti realizzare le nostre imbarcazioni con questa struttura, su cui si appoggia l'albero, su cui si impernia la deriva e la chiglia e su cui si scaricano tutti gli sforzi che arrivano dall'albero attraverso il sartiame. Questo rende la barca molto rigida e una maggiore rigidità significa maggiori performance e maggiore comfort. Fabio, ma a questo evento non si potrà semplicemente partecipare presentandosi qui in barca, ma bisogna registrarsi. Ci puoi spiegare come farlo? Certamente, è un processo molto semplice. È chiaro che in questo periodo dobbiamo fare in modo di adottare tutte le precauzioni necessarie. Vogliamo che questo sia un evento, un'esperienza piacevole e rilassata. Per fare questo non possiamo ammettere tutti coloro che passeranno da qua a visitare e a uscire in barca con noi. Chiediamo per cui ai nostri clienti, ai nostri amici, alle persone che vogliono venire di inviare un'email al nostro indirizzo email tradizionale info-x-italia.it che trovate anche sul nostro sito web, indicandoci la barca di interesse, indicandoci il giorno in cui vorreste venire e possibilmente anche un orario. Dopodiché verrete ricontattati e vi verrà confermato la possibilità di partecipare e vi verranno date le prime indicazioni e informazioni su come la partecipazione dovrà essere e verrà gestita da noi. Vogliamo veramente focalizzarci sul fatto che deve essere un evento rilassato e deve essere un evento in cui la sicurezza sanitaria e delle persone che ci vengono a trovare e nostra, che passeremo tempo con voi, siano al primo posto. Grazie mille e allora Fabio vi aspetterà numerosi dal 16 al 20 settembre qui al Marina di Chiavari, Kalada Ovest. Grazie, a presto.